Amelio, il migliore in campo di questa partita, dopo un 2-2, quante sono le possibilità, secondo te, di salvezza dell'Agrovole? Io dico migliore in campo tutta la squadra. Per lo spirito abbiamo fatto una prova di carattere. Spero che questa squadra si salvi a più presto. Io sono qui, ho fatto tre partite, mi metto a disposizione della società e dell'allenatore, dei miei compagni di squadra, per cercare l'obiettivo, cercare di salvarci a più presto. Non so se ci salveremo ai play-out o diretti. Questo lo vedremo partita in partita. Spero solo che questo ambiente sarà tutto positivo intorno a noi e che ci dà una grossa mano. Quanto serve moralmente questo punto oggi, questa partita? Ci dà fiducia contro la prima della classe. Sappiamo che noi siamo lì, lì sotto, e abbiamo fatto una prova importante contro il Trastevere, che è la prima in classifica. Non so quanti punti ha rispetto alla seconda, ma sono fiducioso, molto. Io ho detto che sabato prossimo a Manfredonia probabilmente comincia il campionato dell'Agrovole. L'allenatore non è d'accordo su questo, secondo te? È iniziato oggi il campionato dell'Agrovole. Vedremo in partita in partita cosa succederà. Speriamo di salvarci a più presto. Un'ultima battuta. Ma l'ambiente, tu che sei arrivato nuovo, lo hai trovato depresso o no? No, assolutamente. Io ho fatto una partita con il mister Santososso, che hanno fatto scelte societarie. Io non so, a me mi ha chiamato lui personalmente. Mi ha detto vieni mi ha dato una mano, io sono qui a disposizione. Mi è dispiaciuto che è andato via. È una persona molto umile. So che qui è abbastanza amato, che stava da parecchio tempo e che gli faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro. E adesso guardiamo avanti. C'è Santososso, che il mister è abbastanza esperto, si conoscono. Magari ne hanno anche parlato della squadra e tutto, questo non lo so. Ma posso dire che ce la faremo a salvarci. Io sono fiducioso.